L'impianto di depurazione del comune di Perito ha ottenuto dalla regione Campania 3 milioni e 500 mila euro, ma non è mai entrato in funzione. Tre società e sette persone sono sotto inchiesta perché ritenute responsabili della truffa ai danni della regione tramite l'impiego dei fondi POR 2007-2013. Per garantire il recupero di quanto indebitamente percepito, il GIP del Tribunale di Vallo della Lucania ha ordinato il sequestro dei conti correnti delle società coinvolte e dei loro rappresentanti legali, ma anche della RUP, del progettista e del collaudatore dell'opera pubblica per un importo pari al finanziamento ottenuto per la costruzione dell'opera pubblica. Le indagini hanno riguardato le spese sostenute dal comune salernitano per i lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica e fognaria e la realizzazione di un impianto di depurazione, oltre ai lavori complementari e alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza. I finanzieri hanno rilevato che le somme, oggetto di finanziamento regionale, destinate alla realizzazione del depuratore, erano state liquidate alle imprese e ai tecnici, nonostante l'impianto non fosse mai entrato in funzione, in quanto carente dei necessari collegamenti con la rete fognaria esistente. È stato anche accertato che l'appalto per i lavori della videosorveglianza era stato affidato alla stessa ditta esecutrice dei lavori per la costruzione dell'impianto di depurazione, senza indire alcuna gara pubblica, nonostante l'importo stanziato dalla regione fosse di oltre 400 mila euro, somma nettamente superiore alla soglia dei 40 mila euro previsti dalla normativa di settore per un affido diretto. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito nell'attuale fase delle indagini preliminari. La eventuale responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.